Il 2024 si è aperto all'insegna di forti rincari per i consumatori. Come denunciato da tempo da FederConsumatori, infatti, in assenza del mantenimento dello sconto sull'IVA al 5% sul gas l'esito era scontato ed è davvero pesante per le tasche dei cittadini. Dal 1 gennaio l'IVA è passata dal 5% al 10% per i primi 480 metri cubi consumati e al 22% per i consumatori. Abbonati a soli 9,90€ all'anno. Autosalone tedeschi, concessionari a Suzuki per il VCO, a piedi mulera.